guarda guarda qua eh vediamo come la gira su qua lui è mi passerebbe essere la metà non la fa la tua così non la fa eh hai visto la moto no perché devi fare hai visto la moto no hai visto che moto no hai visto la moto oh guarda qua l'altro un'altra motesa oh lui era bravo ma la moto eh che cazzi la moto hai visto la marca esa pesa no ma no ma gli è andata dietro la moto comunque c'è ragione hai visto come ha fatto il dietro si ma il dietro gli ha fatto uno due l'ha seguito ha fatto la tirata però guarda che la tua non fa così eh quindi devi andare più alto perché sennò ti si incuzza dentro eh devi alzarla un po' di più sentili sentili prendili 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 fagli una foto andate a cagare guardola 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 eh sì guarda che esagerato cioè con tre moto da triolo accese qua si sente la sua là in fondo fai te casa, casa giù dopo quando trovi il cacciatore col fucile che ti arriva la canna sul naso eh no ma è elettrica è un po' di velocità qua viene in su dai è tutto perché non vuoi consumare la moto la tiene da conto, la tiene da bella con tutta la copertina eh ce l'ho anche già caricato sul fulgono così e così fa niente tanto è la prima l'importante è divertirsi cosa vuoi ancora cosa vuoi non è da mangiare lui la trova rifilata no? si ferma ok stai dentro con le gambe eh stai dentro tanto eh non alzarti fino a quando è finita la curva eh salvata bene salvata bene il tuo olivo è piccolino poi c'è anche dei bassi della madonna l'hanno messo a posto veramente bene sì 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 Grazie a tutti.